E' recitato? Tu che dici? Insomma, l'hai recitato, sì o no? Sì. E tu? Sì. No, non sessualmente. C'era quello specchio. E' stato facile, hai visto? Avrei voluto vedere te. Io ho fatto un'altra cosa. Cosa? Ho preso una casera postale. Adesso puoi spedirmi quello che vuoi. Viola? Perché? E' un posto solo per noi. E ce lo diamo già. Pensaci. E un posto solo per noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.